ciao a tutti sono andrea pizzato titolare dell'appi racing benvenuti nella mia officina l'appi racing è nata negli anni 2000 principalmente ed inizialmente sono sui campi di gara per poi passare ad una realtà di lavoro praticamente di officina e trascurando un po i campi di gara nel 2011 il mio lavoro è la mia passione quindi quando prendo in mano una moto la voglio sistemare al meglio senza girare attorno i problemi cercando di risolvere meglio i problemi questo negli anni mi sta ripagando perché quando il cliente è soddisfatto può solo parlare bene dell'officina e mandare altri clienti ho scelto di lavorare con ducati perché inizialmente negli anni 2000 quando è nata a piressi ho intrapreso la strada con la ducati e mi è subito piaciuta e non è più abbandonato ho scelto di lavorare con roberto cremona perché è un ragazzo giovane che ha delle potenzialità e pochi anni che è iniziato ad andare in moto qualche risultato siamo riusciti a portarlo a casa e penso che continuando a lavorare a testa bassa come come lui sta facendo possiamo portare a casa risultati migliori